Siracusa, la città è il problema sempreverde dell'erosione costiera. Hanno nuovi problemi vecchi, si potrebbe dire. Un modo di ironizzare è quello di Silvia Russaniello, esponente del Movimento Civico 4, che porta con sé anni e anni di studi, confronti e dibattiti su un tema sempreverde per Siracusa, l'erosione costiera. Una versione sempre aperta, soprattutto nella stagione invernale, con la pioggia battente e il maltempo della scorsa settimana. In molti tratti la costa del comune di Siracusa è da tempo soggetta a importanti fenomeni di erosione marina con arretramenti incontrate a Mazzarrona, l'Arenella, Fontana Bianca, Ognina, il Premirio, incontrate a Fanusa, per non parlare della zona di Via Lido Sacramento, già oggetto di diversi interventi prodotti da Civico 4 nelle settimane precedenti. Per essere più precisi, per erosione costiera, dice l'esponente del Movimento, si intende il risultato di un processo o di una serie di processi naturali o indotti che modificano la morfologia dei litorali, determinando una perdita di superficie del territorio costiero emerso e sommerso, e quindi anche di volume, di sedimento, le sabbie, in un dato intervallo di tempo rispetto al livello medio del mare. Tecnicamente questo fenomeno è inesorabile ed è stato fin qui combattuto, per lo più a colpi di ordinanza, piuttosto che con idoni interventi di contenimento e consolidamento. Si tratta di ordinanza della Campionale di Porto, risalente al 2018, che evidenziano serie problematiche dei tratti di costa, specchi e acque ricadenti nel Comune, per i quali sussistono gravi pericoli che potrebbero coinvolgere la pubblica incolumità. In particolare segnalano alcuni tratti all'interno del Porto Grande per le condizioni di instabilità della Falesia e in località Mazzarrona per essersi creata una voragine sulla volta rocciosa che arrega pericolo sia da terra per eventuali fruitori della pista ciclabile, sia da mare per eventuali diportisti. Comune e regione siciliana, secondo Rossanella, dovranno adottare misure necessarie per superare le criticità esistenti anche in relazione ad eventuali rischi derivanti da frane e smoltamenti in aree private limitrofe alle aree demaniali. Vogliamo ricordare che Siracusa è stato a punto d'incontro per il MOP Medflood, un progetto di ricerca finanziato dalla International Union for Quaternary Research per il periodo 2016-2020, il cui obiettivo è fronteggiare fenomeni legati alle dinamiche costiere, sallavamento del livello del mare, erosione e mareggiate che negli ultimi anni hanno attanagliato, in particolare la costa siracusana. Chiediamo all'amministrazione oscente se abbia valutato le condizioni di rischio per la pubblica e privata incolumità e quale misura di salvaguardia tecniche e finanziarie di competenza abbia posto in essere per contestare i fenomeni erosivi e quali siano le determinazioni volte a superare le suddette criticità per quanto riguarda tutti i tratti costieri interessanti dal fenomeno.